Ho deciso di chiamare questa capra non più, Lupe, baby, ho deciso di chiamarla Flower. Wow, io adoro i fiori, hai chiamato questa capretta Flower? Perché io adoro i fiori, grazie, Lupe. Di nulla, Ferd. Posso chiamarti Ferd o Ferdinand? Come vuoi tu, preferisco meglio Ferdinand, perché è il mio nome completo. Ok, è il tuo nome completo. Che vorresti dirci? Flower. Volevo dirvi che ho fame. Sempre fame tu, eh? Allora, volevamo dirvi qualcosa, siamo qui per mangiare, perché hai detto che tu, Flower, hai fame? Sì, ho fame. Guardate. Buono! Inizio già a mangiare l'erba. Prima beveva solo latte, adesso mangio più erba. Grazie, stai diventando una vera capretta nuova. Ricordati che questa capra è anche con un po' di miei geni, sarebbe che è anche un toro. Quindi è una capra a toro. Ecco perché i tuoi capelli. Grazie. Ma io desidero mio padre, desidero vedere mio padre là. E dopo un'attesa tanto infinita, qualcosa di magico accade a Ferdinand. Che c'è di qualcosa? Non lo so, sento che sta arrivando qualcuno. Ma chi è? Veramente, non ci credo ragazzi. Non ci credo Lupe, non ci credo. Flower, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Quello deve essere... Mio padre! Ciao papà! Ciao papà! Ciao Ferdinand! O come volessi essere chiamato tu, Ferd! Veramente volessi essere chiamato Ferd? Ok, ok, ok. Chiamatemi Ferd perché c'è mio padre! Grazie a tutti!